Prima stecca al Bonolis per il Teramo. La squadra di Paci perde 3-1 contro un potenza coraggioso e che ha giocato senza troppi tatticismi. Eppure le cose si erano messe bene per il diavolo con il gollampo di Bombaggi, ma poi si è perso anche per gli errori commessi in difesa, reparto per forza di cose ridisegnato dal tecnico alle prese con diversi indisponibili Piacentini, Vitturini e lo stesso Soprano dirottato in panca perché non in condizione. Sfortunato Di Matteo, tornato in campo a distanza di mesi, il giocatore si è infortunato ed è stato costretto ad uscire, da capire anche l'entità dell'infortunio capitato a Birligea. Ancora una prova poco convincente di Costa Ferrera, ma quello non è il suo ruolo. Cinque gli under inizialmente schierati da Paci, Trasciani, Kappa, Santoro, Dietiche e Birligea. Sul fronte Lucano out gli infortunati Salvemini e Bruzzo e lo squalificato Sepe. Il cambio di modulo proposto dal neotecnico Gallo, dal 3-5-2 al 4-3-1-2, ha dato maggiore pericolosità a tutta la squadra, sorretta in avanti dai navigati Romero e Mazzeo. E veniamo alle fasi salienti del match, arbitra a Canfora di Castellammare di Stabia. Come detto al sesto la sblocca Bombaggi, al quinto gol stagionale, ripartenza con Santoro che al limite dell'area serve il numero 10 bianco-rosso sulla sinistra. Il giocatore si accentra e lascia partire un tiro radente che beffa il portiere ospite. Partita in discesa, nemmeno per sogno. Il Potenza non si scompone e pareggia dopo meno di 4 minuti. Romero si inserisce troppo facilmente, per la verità, in area e con una conclusione angolata in fila Lewandowski. In quel momento c'è da dire che il Teramo era in 10 uomini per un'infortunia a Birligea. Al suo posto entrerà Pinzauti. Un minuto dopo Teramo vicino al raddoppio grazie ad una bella azione partita dalla propria tre quarti. Costa Ferrera si fa trovare pronto al cross. Conclusione sotto misura di K. Grande respinta di Marcone. Palla ancora viva. Santoro conclude alto. È un buon momento per il Teramo che insiste nel portare pericoli verso la porta avversaria. Qui Santoro conclude di Potenza ma Marcone si fa trovare pronto. La partita è bella intensa. Il Teramo attacca ma il Potenza non sta certo a guardare e al 32esimo arriva il raddoppio della squadra lucana. È ancora Romero che raccoglie un traversone di panico e di testa in fila Lewandowski apparso un po' incerto nell'occasione. Teramo a quanto confuso. Il Potenza potrebbe calare il Triss al 38esimo. Traversone dalla destra non benissimo Lewandowski che tocca ma non trattiene. Sulla sfera si avventa Sandri che conclude verso la porta. Stavolta Lewandowski attento e sventa. Il tempo si chiude con un'altra ghiotta occasione ospite. Sugli sviluppi di un calcio di punizione della tre quarti Gigli di testa da ottima posizione non inquadra la porta. Ripresa Teramo subito in avanti. Occasione importante confezionata da Santoro. La difesa lucana si salva con qualche affanno. Ancora Teramo che si fa vedere con questa punizione di Bombaggi dai 25 metri. Sfera alta. È il momento di maggior pressione bianco-rossa. Pinzauti serve una palla d'oro in piena area a Chiere Matenga. Appena subentrato il giocatore controlla ma colpisce male e alza la mira. Al 25esimo ancora Teramo ci prova Pinzauti di testa. Marcone blocca sicuro. I bianco-rossi non sfondano e il potenza è pericoloso in ripartenza. Ricci riesce a concludere verso la porta. Bravo Lewandowski a deviare in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner però il potenza accada il tris. È una perla di Ricci che insacca in rovesciata. È il colpo del KO. Il Teramo dunque è costretto ad alzare bandiera bianca al Bonolis dopo oltre 11 mesi. L'ultimo stop casalingo risale infatti all'8 marzo 2020 contro la Virtus Francavilla e domenica prossima trasferta in casa della Juve Stabia.